Riccardo Cristiano, Liberi TV, La Messia Terme. Sono in compagnia di Veronica Calati e di Celeste Litano perché qui oggi si terrà uno stage di pizzica salentina, poi bisogna vedere se è solo salentina o è spostata anche qui in Calabria e lo chiediamo a Veronica Calati che è danzatrice di formazione classica che però appunto ha abbracciato la pizzica salentina perché la musica, lo dicevamo prima fuori dai microfoni, unisce ed è un messaggio di pace e di unione. Un messaggio di pace è proprio questo, è quello che vogliamo trasmettere alla fine, la musica è condivisione, la pizzica essendo una danza popolare, la danza che viene dal popolo, una danza di festa quindi può trasmettere solo cose buone, quindi ho abbracciato questa danza perché mi trasmette cose belle, cose buone e io cerco a mio modo di trasmetterle agli altri. La tua terra poi tra l'altro è nota per aver ispirato molti gruppi, molti artisti, tu hai avuto la possibilità di girare e di iniziare questo percorso degli stage un po' di tempo fa, ce ne vuoi parlare? Io ho iniziato, sono più o meno dieci anni, ho iniziato Pino Zimba, ecco mi viene subito in mente Pino Zimba perché fu il primo con cui iniziai a muovermi, Pino Zimba insieme alle Zimbarie e furono i primi concerti fuori, io da Migiano, provincia di Lecce, prendere il treno, macchina, via, partire, per me è stata quella, il via. Per il sì al mondo diciamo. Sì, mi è piaciuto e ho continuato. E i ragazzi o le ragazze che comunque si avvicinano alla pizzica e alla danza, li vedi interessati rispetto appunto alle nuove generazioni? Rispondono molto bene alle nuove generazioni, la bellezza di questa danza è proprio il fatto che non abbia un pubblico fisso, abbraccia più generazioni, noi possiamo vedere giovani, adulti, meno adulti, uomini e donne, quindi anche le nuove generazioni rispondono bene, si avvicinano, hanno voglia di sfogare anche loro, tra virgolette, richiamando vecchi e quindi di divertirsi, c'è bisogno, c'è bisogno di divertirsi. Certo, poi tra l'altro Celeste prima sempre fuori dai microfoni parlava anche di unioni di culture differenti e di razze differenti, quindi non c'è una sola definizione della pizzica o del ballo o del canto. Diciamo che io sono l'esempio vivente che le barriere devono essere assolutamente omesse, distrutte. Io da calabrese mi sento di dire che amo il Salento e credo di dimostrarlo soprattutto quando canto, perché l'arte principale è il canto. Poi grazie alla persona di Veronica che abbiamo, è un orgoglio per noi averla oggi qui, e voglio proprio creare questa sorta di, chiamiamolo sì, gemellaggio, unione tra il Salento e la Calabria, perché spesso purtroppo si sente questa sorta di invidia anche nella musica popolare, cosa che invece dovrebbe essere assolutamente omessa, perché il popolo è libertà e quindi poi sappiamo che era tutto Salento. Poi tra l'altro credo che non ci debba essere una sorta di distinzione, è come se si facesse una differenziazione nord-sud in alcune cose oppure sud e sud in altre. Esattamente sì, la cosa più assurda che succede anche nella stessa Puglia tra Gargano e Salento, che si tratta sempre della stessa regione. Posso capire Calabria-Puglia, anche se non la capisco neanche, ma Puglia-Puglia. Un po' difficile. Io poi tra l'altro volevo anche capire questo tipo di danze, che diciamo sono arte poi fondamentalmente. Vengono riportate poco sui mezzi di informazione, anche perché sui mezzi non tradizionali, non convenzionali come internet si riescono a reperire video di Veronica, di Celeste, poi entrambi avete la pagina Facebook, quindi è anche possibile trovarvi per chi volesse appunto conoscervi. Riscontrate una maggiore possibilità di visibilità oppure no? Io credo che la musica popolare, grazie alla possibilità che, diciamo che anche la musica popolare è diventata world music, quindi è già presente sulle varie piattaforme come Spotify, cosa che prima magari non era possibile. Sì, sicuramente Facebook, YouTube ci ha consentito di farci una piccola notorietà, piccola personale. Sicuramente i social network fanno parecchio. Io chiederei anche a Veronica un'altra cosa. So che comunque hai iniziato con i bambini, quindi la danza per quanto riguarda i bambini, che sono forse molto più puri a livello anche di spontaneità. Ci vuoi raccontare qualche esperienza? Grazie, proprio grazie ai bambini sono riuscita poi ad assumere, ad apprendere quella didattica, quel modo di insegnare più elementare possibile. Cioè nel momento in cui c'è qualcuno che la pizzica si segue molto per imitazione, non c'è bisogno di mettersi lì, poi è il mio modo, dopo vedremo come è danzando. E con i bambini sono riuscita ad arrivare proprio a cercare le scorciatoie più assurde per trasmettere loro questa danza, quando poi mi rendevo conto a fine corso che loro già ce l'avevano dentro, da soli riuscivano. Però mi hanno trasmesso questa padronanza nel capire e spiegare determinati movimenti. In libertà? Sì, che mi hanno aiutato poi con gli adulti, che invece realmente avevano dei problemi a volte sul tempo, imbattere, non inlevare alcune cose. Grazie ai bambini e a quei ricordi, così ho capito. E la spontaneità quella? La spontaneità, sì, quindi ho imparato più dai bambini, ho imparato prima di insegnare, insomma, insegnando ho imparato, se si può dire. A questo punto io vorrei chiederti, prima a te e poi a Celeste, un consiglio da dare a chi volesse avvicinarsi alla pizzica, qual è la cosa che li potrebbe coinvolgere, magari vedranno questo video, vedranno lo stage, cosa li coinvolgerà sicuramente o cosa può spingerli ad avvicinarsi alla pizzica? Allora, io innanzitutto invito chi sta guardando ad andare in piazza, perché la migliore scuola, una frase detta che dico sempre ad ogni stage, è la piazza. Lo stage, lo dico contro me stessa, perché insegnando, lo stage aiuta chi non ha la possibilità, chi aiuta innanzitutto a togliere le insicurezze, perché è una questione mentale, la pizzica è una danza molto semplice. Il difficile è proprio la parte emotiva, il fatto di sì, spirituale, e quindi vi invito tutti ad andare in piazza, a lasciarvi andare, a sentire il ritmo, ad aprirvi, a divertirvi, perché ormai non si trova più il tempo per divertirsi, quindi lasciarsi andare, a ritmo, non pensare, oddio, casomma, ballare. No, no, tranquilla, è molto liberi questa tv, sei tranquilla, no, assolutamente, assolutamente, quindi ti puoi lasciare andare, a questo punto di lasciare andare lo chiedo anche a Celeste, quindi si può lasciare andare? Assolutamente sì, perché è proprio la spontaneità che fa da padrona in queste danze. La libertà, e infatti in una prima intervista, mi ricordo, ti dicevo proprio che questa è una danza aperta a tutti quanti, anziani, bambini, adulti, come diceva lei prima, e quindi proprio la libertà, lasciar parlare il cuore, è quello che ci fa capire se siamo affini ad una danza, ad una lingua, ad una persona, a tutto quanto. Abbiamo iniziato con la pace e finiamo con il cuore, mi piace già questo bel messaggio, dimmi, dimmi, Verona. Stavo rovinando questo finale del cuore, perché stavo dicendo lasciatevi andare, poi c'è l'arma a doppio taglio, perché su questa danza lasciatevi andare, ricordiamoci, però io una cosa vi dico spesso, per quanto riguarda le regole di questa danza, io come due regole metto prima di tutto, proprio essendo la dissacratrice che non vedo molto, metto il buon senso e il rispetto. Cosa che manca spesso ovunque. Questa cosa del lasciarsi andare spesso, da un lato sì, permette alle persone di finalmente divertirsi, prendere, apprendere, lasciarsi andare, dall'altro crea poi... Diciamo un eccesso, sì un eccesso dall'altra parte, però ho anche visto, tu dicevi prima che scendere in piazza, a me è capitato di vederlo in varie sessioni pubbliche, che comunque persone facessero anche dei tipi di balli, che per me sono un neofita, tipo la ruota, balli che comunque coinvolgono il gruppo, quindi si lasciano andare in gruppo, cioè molte volte le persone, non è un ballo singolo, è un ballo che comunque coinvolge piccoli gruppi e grandi gruppi. Sì, io quando sento gruppo mi viene in mente la pizzica di gruppo. Ah ok. A quello volevo... il mio pensiero prima si riferiva anche a questo, al fatto di lasciarsi andare per evitare, insomma, però sì. È una cosa comunque positiva diciamo di lasciarsi andare al fine di rompere dei tabù, probabilmente il fatto di non riuscire a pensare di poter ballare o che comunque qualcosa... Tutti possiamo ballare perché è una cosa che io nell'istage do lo scheletro, uso sempre metafore io, però i muscoli, il cuore, gli organi, lo deve mettere la persona che sta ballando, li deve mettere la persona che sta ballando, quindi è una cosa, il lavoro devono farlo gli altri principalmente, lasciandosi andare. Io posso dare lo scheletro e quindi tutti possiamo ballare perché tutti abbiamo uno spirito. Eh vedi, 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 siamo passati dalla pace, siamo passati dal cuore, siamo arrivati dallo spirito, quindi oggi tu sarai lo spirito che anima, no è vero dai, diciamo che anima la realtà calabresa e la metina, affiancato logicamente da Celeste e Iritano e quindi io auguro a tutti quelli che parteciperanno oggi allo stage di divertirsi, di partecipare numerosi, non solo oggi ma in futuro e quindi vi auguro buon stage, grazie Celeste e Iritano e grazie Veronica Calati. Grazie.